guarda ragazzi qua i bigamers hd siamo tutti qua con un nuovo video e direte ma che cazzo direte ma che cazzo, già lo so perchè? perchè abbiamo dei champ che non giochiamo mai oddio forse freddi no abbiamo i nomi molto diversi dei nomi diversi ecco siamo qua ci porto mano che l'avete lanciato per ultimo che caro è uguale c'è un'hai lì davanti ok comunque siamo qua insieme a FadingWall85ita che è un iscritto che ha commentato l'abbiamo aggiunto e tutto e pensavamo di fare game con gli iscritti cioè se volete questa è una sorta di facciamo nuova serie tipo si chiamerà League of Legends con gli iscritti ci proviamo per chi vuole giocare commenti da qualche parte ce lo faccio sapere che non mi fate i commenti li guardiamo tutti e ci aggiungete oppure vi aggiungiamo o no è indifferente poi quando siete online che beccate anche noi si gioca e si recca non flammiamo perché magari becchiamo anche con una delle più forti ad esempio lui è un livello 11 no sappiamo che alle prime armi anche noi ne eravamo al massimo e quindi stiamo cercando di dare dei consigli tipo io l'ho detto anche prima ricorda scatoletta A41 JK perché prima tipo l'aveva piazzata a 36 game di prima perché abbiamo già fatto un game ci ho detto guarda con la nuova season dato che i minion cioè quelli da giunga spawnano le 40 ecco che mi devo comprare su staccato voglio farlo in main timo allora anche se me dopo me lo compro faccio menti l'ha detto l'ha detto la promessa la promessa come vedete il film c'è l'alessandone però quali il un po' solo fai del panorlo perchè solo io della partita io sono livello 20 oh la tiri a testa di comunque non credo per il tanto ora la tiri io sono livello sei ma non un 10 2 o 13 anche se non un po' di più non è un'altra per esempio il posto non devo cambiarlo un deciso che vivo andiamo 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 a spaccare selezionato unisco con la testa qualche bello polizzi il testo la parma e faccio la bimbo a la cittadina mamma mia il primo min si fa un missato come risolverò se non si sbaglia più niente a questi livelli minacena lo scudere di credito si fa il campo e se ce l'ho grazie voler pozzo un attimo questo vuole che la roma non lo vuole devo due secondi no ragazzo per cambiare la ok la barbina come se costo su non lo so costi fatale di fare cassa di prestare agli amici condizioni un gruppo questo macchina se il quarto ecco l'eserci si sentono ragazze del tempo che corro di fronte se non è stato un casino avete un gatto in casa, capite il mio afg io devo prenderlo che uscire oh 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 scemo non hai? sei afg? no beh basta, un attacchio in più non siamo stranzi ma scorsa uccidetelo così finisce prima ecco, vedete, come un'unica e se non tra gli altri dei giocatori tra la testa di calcio no, è grande oh 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 tu ragazzi c'è, ti trago free win oh c'era in bait free win vai via ma cos'era quello? ha flashato, cioè, non ho capito ha flashato, sì, perché voleva fare flash Q però io avevo la mia E guarda quella Q di Ashe quando ti rompe il cazzo sì, abbastanza dai, cura me un po' non mi fregai mi trovo un po' per la telea per lo scudo no, non è arrivato flash cast ah, i emmo ah, mettiamo giungla, allora no, 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 sono due toglie ti trovo hai detto, ma no, 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 sono due toglie fa il mio scudo dai, ah, non ce l'ho dai, chi c'è lei no, non ce l'ho cariativo devi cliccare su di me, ma non perveniva sì, lo so ero impegnato a far male ma scus vogliamo voler sapere non lo spero si vuole dire muovo che si mette ricollari così ma quando vabbè api indietro neanche giusto seconda partita il secondo me è la seconda partita è la seconda eseguita so che magari non può essere il massimo in game del genere però ma quanti ci hanno due infatti le palle l'ho pure fatto al muro sgainato ma se ti avessi pollo prima passivano avrebbe approcato abbastanza probabilmente l'avremmo chiamato non riesca l'astitare con 71 di ad sembra di rastitare con un mage c'è il primo scuro chiedo scuro benedetto non a te non c'è il giallo da mano quindi adesso posso stare nel conto ci pare ciò che è ancora il risultato del ricordo di spazio al muro non è neanche il muro che neanche contro il muro è morto carta ma io riesco a sito sto formando da cani buoni pensare questo l'ha scritto sento bumbum questo l'ha scritto cioè questo il testo nero con un altro questo inteso un altro mi si casse non vuole fare male ragazzi perdete sempre un po' di tempo per metterli appoggio no non fatelo chi è un vero uomo gioca senza word what? ma con te lo facciano questi scusa? non lo so c'hanno dodici spero non hanno pisamone cioè ha finito spero che se ne mettono una loro se ne mettono una loro oddio voglio il 6 voglio il 6 e non ammana voglio il 6 non posso dire se non si può però ci sono chi si è vissuto che si è vissuto è infatti stanno passando per me non farci però c'è via si è evitato morti dammi c'è avanti si ce l'aveva ulti si ce l'aveva ulti c'è un'umana ma c'è dai questa 150 rimanevo solo con quelle poi non facciamo la facciamo solo tattacco se ne andavano se ne andavano anche solo solo se ne andavano se ne andavano trastomigili ci devono anche me no non avevo flash ma comunque basta se c'è una bf si lo sciaccia per chi li conto vuoi vabbè vende mi faccio prendere un po' di livelli stai qua indietro perchè è livello 3 shako? eh non lo so infatti anche nello scorso game ero un po' di 3 livelli provato what? ecco ora basta thank you povero master per questo che non vado mai per questo che non vado mai gat cancer ti sa e ti fa diciamo ma scuola che tu chiamato sportività io io si è vero sa prima non andavo ad andarci una volta visto casting comunque rimane un 3v2 infatti io stavo cercando di baitaro perchè pensavo arrivasse Freddy però si ma io non c'avo mano no ho cliccato città e hai 200 no 160 avevo vabbè ma dico se ultavi veniva via da solo quello capito cioè non ingaggiava quando è arrivato l'ho visto lui subito avevo 150 poi ho fatto la carta blu con la sinistra con la sinistra con la sinistra no ma può saltare questo scudo grazie ora c'è un mano posso arrivare mhm no stanno andando back no mi stanno andando c'è nel senso è andata back back della lane cazzo del mondo questo comparto una picca ma chi era detto noi anni noi al votare andata assaggi ok oggi lo sfondiamo vado a scappare lui al caso non c'è ok ma io quindi la plage con lo scappo non posso se credo a capo attaccalo film giusto così cost portati a prozioni non so di peribus ma prima non l'abbiamo guardato chi aveva i buzz al minuto 25 o meno bene con la passione ricorda si si anche per forza tu metti al pink nel tribus e io la metto nel tribus e tu vado a mettere tipo qua bene vediamo vedo però adesso rimane un attimino in lane la volta che è pushata per noi si fai di se quando c'è lo più è free free love free love come di pusha si vede, guarda qua boom, è successo qualcosa? ah andiamo 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 io vorrei capire perchè io sono a livello sopra lui e lui mi squarta vabbè sono a gettai buono buono a togliere il word shock bravissimo andiamo a pincare in fondo po' fa una volta che sto dal muro ma che è sicuro praticamente metto qua che tanto loro non la toglieranno mai c'è c'è cassa facciamo possiamo fare il drake c'è cassa c'è cassa eh quando lo attacchi fa così il drake eh però con la w mia la w e la qd civil era stata una volta attacca eh la spagna si non non in giro il drake di ok il prodotto il pr non lo scu attacco di scudo ti ai l'appunto non ringrazio per masteri chiede aiuto ma nida lì e mezza fk tipo vittimo stasmanone per mezzo amore se mi sono tornati con il mondo e' un po' che vuole lì ma sai se non te lo fai in questo video voli l'ho 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 il progetto perché non avrebbe permesso la nostra voce di bussare l'ambiente hvd masteri perchè è stata vado vado voli ho dei pedane della torre, alla torre le rifaccio la buttiamo giù, la torre ha fatto presto da lì ok ok thank you occhio sciocca dalla camera da laboratorio ma riesce a crescere con un civile si stava che stava trollando perchè sono consigliate quelli di colore da susciti berserker tutta la vita oh ho visto il bait di shakina dunque quella nida lì ha fatto flash cooper per saltarmi il dosso, ha fatto una roba bruttissima abbastanza tra direi è scarsina quella nida sta girando perchè perde soldi al farm livello 8 vabbè io sarei più attivo un po' che deve essere buona andate neanche bene oh oh ok no, mi so no mi sono morto tanto dopo domenica il mondo con la fabbrica il miglior abon morto sotto torre lo so che ci sono ma sono andato il cern voleva prendere solo uno credo un po' scevolo quanto tanto giorgio il giorgio che succede da guarda l'uomo io lascio il gioco fatto non ho guardato o mi da p percorso di non è in dubbio sta arrivando voli no se la tratta io non so non sta più arrivando dai dai martello martello ma dai perchè stai tancando perchè è venuto su hash fai di fargli vedere il briscolino eccolo io vado via, ciao ciao perchè? sono andato comando LOL con una E LOL va fuck it ma ce li facciamo vai vai friend io questo invece me ne andrei che hai ilato eh di loro credo valivi mi sa cazzo di servizio cazzo cazzo in quattro secondi non ci arriverà mai bello ciao ciao 30 ce ne mette scusa 10 con la ultima visto che questo qua non è main ce ne mette 18 kk 3d sono le desideri allora direzione casa del chase allora sono tutti i miei due formaggi di cassa di 3d ah no no guarda lo dai ci sono poi adesso mi lo chi lo io 3d 3d 0 1 2 shot 0 1 3d guarda quello vai vincere no 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 vale ma te via eccola la mandata assenti ti ho filtrante alto non avete mai visto la combo poppy 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 zilean che tipo mette le bombette sui minion e poi poppy oltre i propri minori esterano stilato anche dei baron così si dalla vista ho la no praticamente tu mi mette le bombette su qualcosa dai poppy ulta e la mandano sospita che tipo drake così boom a caso mi hai fatto un critico poraggio bam guarda le mazzate 3d subito subito travole bimbi di tutta c'è da anni si deve farti la farla preferita io no no cazzo c'è timo ragazzi lui può carriere grazie 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 no mate ve la spostate dalle carte infatti bisogna di buttare la sua la sinistra andiamo via stavano anche volibear si giusto prima prima abbagliamo il gangnam style poi andiamo oh 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 guarda voli guarda voli stile ha l'edito boom easy a l'annunzato venga il tf matto alberghio vanno corri verso di me al lavoro sito vai via ma che cazzo di minuto se morto carlo se ci amara focus a voli per bravissimo come fa come fa il quadro tipo master ma non si è nata una il fatto che non se la meritava doveva arrivare prima bastardo not quadra scriviglielo no quadra tanto ammazzaro in mano ooooh provo a farti quel cem quanto lo amo vabbè la dica vai prendiamo questa guarda sono tutti morti ma che vai vincere somma c'è tipo l'umus giudizio ma per caso lo so no quadra cosa tentum per 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 americano per 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 non per per ma non per non per non ma non v perché non corretto l'unico ma anche quel cerchio un'opera adesso non è in poso in quattro c'è ragazzo nel mio posto sconti proprio quanto divertente da un uomo ds buon no voglio dare mente non quattro e quindi l'auto tipo vacci a qui il maletto tipo vacciati si tratta di vita facci 8.5 spot of mage sei deciso interrotto è questa decisione baron baron guarda le ward le ward quanto trovo ragazzi siamo baron ti giuro il suo l'aspetto delle strade le spalle la parola non puoi manu vieni manu vieni per divina anche tu no ci rinuncio non potete fare inizio maestricista aspetta è livello 7 chi se ne frega è free il sito per dire a parte il bar io non vengo per dire il salario per il mondo perché ci lo facciamo si si master riguardo flash master master no 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 giustizia no patti ma fatto questo bar no basta ma è venuta il bar per farlo perciò io non ho portato a caldo latino cazzo decisione il testo di testo di calzoni mi sono visto un po' negli occhi moment sono 8.25 un per il freddo per me che dice un bag di merda steveni danni il coso del split on the other hand dvd si romano e ci sto provando come perf no allora mi sa ma ho avuto perché che ha detto no riserva 3 di torno ci sono scopera se le carte vai a comprare vincere ma che vuole non vuole fare il bar un più no io shakripp fatti non credo no e' partito il chase per te il chase credo anche voodizina agente speciale voodizina vai gente speciale arriva anche agente speciale marchetti vai vai andiamo gente speciale aspettami ragazzi notate la build un po indietro no no guardate cosa ha buildato ah quello da p si 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 deve prendere quello di ulti davvero no io diciamo eh si così i prossimi game gioca meglio diciamo ecco perchè prendeva tutti io no vado flusciare di cattiveria su si 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 significa feed feed quando muori tante volte ma feed vuol dire nutrire quindi nel senso ma in termini di lol infidiamo il game feed ah tipo io lol ma è forte lo studio oh quanto slow we che della merda si mordimi guarda anche questa che cazzo fa boom ahia mi fai da una fu ahiaia no no lo scudino devo andare a prendermi te lo shoti prendi no ha finato la cu no no ma che c'è la pentakill c'è la pe timo cosa eeeh castellin ero timo anche castellin ah serio si no ma io la vado finita si però stai calmo controlla finisci timo ti fa 1v1 calma no hai c'è il double boss si dite lì del litro si vai ma c'hai minion se focus a te finita si ma infatti c'è la fisca di minion no c'hai full no non è vero non c'è lì mastery dragon age mastery skyrim per un'ora e che dobbiamo far uscire dalla base così faccio il backdoor di nuovo escire dalla base uscite uscite lì uscite lì dalla base sii se no siamo top e vieni dai vieni arrivo prima io mi sa di si di me feddy no vabbè dico vabbè teneteli occupati magari fai i tatti ogni tanto faccio back tu vuoi fare sempre backdoor ah boh nel senso finita la sei uscita ah ma finiamo è il metodo più sicuro zegur è così carica questo gran colpo della minchia che era un bait dj easy molti di asce comunque non cioè c'è l'asce top che farmavano non hanno difeso nulla vabbè non no non volevano eh vabbè sono cose easy report diciamo che il primo episodio di questa serie è una nuova serie diciamo si dai è una nuova serie e poi finire qua intanto ringraziamo Faddinguodita per aver giocato con noi e niente il video è verso tutto bella ciao bello